Mi è venuto un Ikea per un caffè all'aperto con i pisgla! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Sì, mi è venuta una nuova Ikea gironzolando per il web. Su Pinterest ho visto dei sottobicchieri molto molto carini e ho fatto dei sottotazzina da caffè molto carini con un designer optical anni 70, diciamo così. Ho usato solo tre colori di pisgla ed è venuto fuori un servizietto da sottotazzina troppo troppo carino. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come ho fatto là. Adesso vediamo l'occorrente. Naturalmente ci occorreranno i nostri pisgla, io uso questi che sono i pisgla Ikea, ma si chiamano anche Hama Vez e li trovate sia in edicola che in molte giocartolerie, anche da Tiger li vendono, quindi oramai sono diffusissimi. I tappetini per lavorarli, io userò forse il tappetino esagonale, non so se è tondo o esagonale, credo esagonale per fare una cosa più particolare. E naturalmente il ferro da stiro per stirare le perline, che dovremo tenere ad una temperatura media, non troppo incandescente, è la nostra immancabile carta forno. Per agevolare il lavoro, se vorrete, potrete utilizzare una normalissima pinzetta per sopracciglia. Cominciamo subito. Io per questa serie di lavoretti userò soprattutto i colori bianco, nero e giallo, con cui farò di volta in volta i vari sottobicchieri. Ho deciso di utilizzare un decoro optical. Ok, su un tappetino esagonale posizioniamo quattro perline, lasciando uno spazio tra l'una e l'altra e lasciando il primo chiodino vuoto. Sul primo chiodino invece andremo a mettere quelli bianchi che intervalleremo con quelli neri. Quindi andremo a chiudere il triangolino sotto al nero con tutte le perline bianche. Bianco e nero, bianco e nero, bianco e nero, bianco e nero, quindi attorno al nero chiudo il triangolino in bianco. E faccio la stessa cosa naturalmente attorno ad ogni perlina nera. Contorno le perline bianche con una strisciolina di perline nere che ne segua proprio il profilo. Da questo momento in poi è molto più semplice perché bisogna semplicemente seguire il profilo delle perline. Adesso dobbiamo ricreare i triangolini anche qua. Avremo questa linea dritta tutta nera. Bene, sotto quella principale, quindi quella di qua sopra, metteremo una perlina visto? Sotto ognuna di quelle nere lasciando uno spazietto vuoto. Così. Ok, arrivati a questo punto facciamo una linea tutta gialla. E ora una linea spezzata tutta bianca. Quindi tutta nera, quindi tutta gialla, quindi tutta bianca e continuate così fino a riempirlo tutto. Guardate come faccio. Adesso stiriamolo, quindi lo mettiamo sotto un peso e lo lasciamo riposare un po'. Mettiamo la nostra carta forno sopra il nostro lavoretto e fondiamo le perline. State attenti a non bruciacchiarle troppo, quindi badate bene a che siano incollate ma non splattate, non totalmente sciolte. Ok, perfetto. Arrivati a questo punto rimuoviamo, poggiamo sopra un pesetto e lasciamolo riposare così qualche minuto fino a completo raffreddamento. Il secondo lo facciamo con un insieme di triangolini neri, bianchi e gialli. Cominciamo, cominciamo dai triangolini neri, partendo facendo appunto un bel triangolino così. Anche in questo lascio l'ultima riga vuota, non mi interessa questa esterna, li farò ma leggermente più piccoli. Riempio invece la parte superiore di bianchi e adesso prendo i gialli. Ok, anche questo è fatto troppo troppo bellino. Anche questo mi piace tanto, come fantasia, vediamo adesso come viene dopo la stiratura. Una forma più complessa e allora cominciamo subito. Ed ecco che i cubi si stanno cominciando a formare nel nostro cervellino. Sono difficili da vedere e questo tra l'altro è un po' una tortura da fare. Ok, e anche questo è fatto. Guardate, così lo capirete meglio senz'altro. Spero, anzi, lo capirete meglio così perché la parte superiore del cubo è questa e questa è la parte inferiore. Ed eccoli qua, belli e pronti, tutti i miei sei sotto tazzina. Che andranno poi a far appoggiare appunto queste tazzine qui che io ho così senza piattino. Posso finalmente ritirarle fuori dalla dispensa e utilizzarle per tutto il periodo estivo. I schemi di questi mi raccomando li troverete sulla pagina Facebook di Arte per Te. Nell'album bicchieri sotto tazzine con i pisla. E allora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. E allora vi lascio alle foto. Invece da oggi, tac, le metterò qua sopra e faranno la loro bella figura. In più questi sotto tazzina sono comodissimi per esterni perché se dovesse piovere, se li dimentichiamo fuori, se dovesse venire giù un acquazzone estivo non ci fa niente, basta un colpo di straccio e sono subito di nuovo come nuovi. Allora spero che quest'Ikea vi sia piaciuta, che quest'idea vi sia piaciuta, potrete farli anche con gli Amabed, quelli che trovate in edicola o da Tiger. Non bisogna andare per forza da Ikea, quindi chi non ha Ikea vicino a casa nessun problema. Bene, a questo video ne seguirà poi un altro in cui ho fatto un altro accessorio a questo servizietto da caffè. E quello invece è farina del mio sacco perché mi serviva, mi sono ingegnata e l'ho fatto. Quindi vi rimando al prossimo video, non senza ricordarvi di seguirmi anche su 2Q1K e sul mio nuovo canale, Ombretta, e naturalmente su tutti i miei social, i cui link li trovate qua sotto. Augurandovi una buona estate e prima che io mi sciolga in una pozza d'acqua vi saluto e vi rimando al prossimo video. No, Ombretta ed arte per te è tutto, ciao, arrivederci alla prossima!